Tenetevi forte, perché solo qui, da Dotolo Mobili, è arrivata un'offerta imperdibile. Quattro elettrodomestici, dal valore di mercato di 1.900 euro, saranno posti a soltanto 499 euro. Un piano cottura da 75 cm con 5 fuochi. Un forno da 60, multifunzione. Una lavastoviglie da incasso, 13 coperti. Ed infine un frigo congelatore da 270 litri. Mobile Touri, Evo Cucine, Stosa Cucine, Scavolini. Scegli il modello che più ti piace e inserisci i nostri quattro elettrodomestici, sempre e soltanto a 499 euro. Non comprate la vostra cucina su un catalogo. Solo qui, da Dotolo Mobili, il più grande showroom del sud Italia, troverete tutti i prodotti esposti. Potrete vederli con i vostri occhi e toccarli con le vostre mani. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. Abbiate amore per la vostra casa. Solo qui, da Dotolo Mobili, tutto quello che cercate lo troverete esposto.